La labirintite è una malattia, è un'infiammazione del labirinto. Il labirinto è un organo deputato al mantenimento dell'equilibrio, mentre il sintomo che accompagna la malattia, cioè la labirintite, è la vertigine. E anche lì bisogna fare una distinzione, perché per vertigine la vertigo è una sensazione di instabilità, però con una componente rotatoria, cioè significa vedere gli oggetti dell'ambiente circostante ruotare. Questa è la vertigo classica, e quindi è un sintomo che assolutamente allarma. La vertigine classica, la cosiddetta vertigo con componente rotatoria, va contrapposta invece all'instabilità, alla cosiddetta dizziness degli autori anglosassoni, che è l'instabilità che noi, per farci capire dal paziente, diciamo si sente come se fosse in piedi su una piccola barchetta, oppure come se stesse camminando a occhi chiusi su un materasso. Solitamente la vertigine senza caduta a terra è molto spesso un problema di tipo otorino-aringoiatrico, mentre la vertigine con caduta a terra può richiedere il parere di un neurologo o di un cardiologo. Esiste poi però la labirintite per esempio come conseguenza di un otite, e questa è una cosa da guardare con sospetto, cioè il paziente che ha un otite acuta o cronica e che sviluppa vertigine deve vivere la vertigine come un campanello d'allarme. Nell'otite acuta è un coinvolgimento dell'orecchio medio che si sposta al labirinto, quindi all'orecchio interno e quindi deve essere un campanello d'allarme. Nel paziente che soffre di otite cronica, quindi presente da 20 anni e che ha la perforazione timpanica e ogni tanto l'orecchio bagnato, eccetera, in quel paziente lì la comparsa di vertigine può essere un segno d'allarme, nel senso che può rappresentare il segno di un'erosione ossea da parte dell'ottite cronica, quindi un altro campanello d'allarme. Grazie. Grazie. Grazie.